Ciao a tutti ragazzi sono Luke e un altro aggiornamento dal forum dal server volevo dire allora ho creato due nuovi gruppi su Amachi per cui attenzione uno si chiama Gruppo Vuoto e l'altro si chiama Gruppo Vuoto 2 per cui entrate la password è sempre 4316 vi metto anche l'indirizzo IP per chi non sa entrare in Amachi ripeto, allora aprite Amachi chi non lo ha lo scarica andate su rete e fate partecipa alla rete esistente e mettete queste cose che vi ho detto non è difficilissimo un'altra cosa, c'è tanta gente che mi dice il server è chiuso, non riesco ad entrare o sarà la connessione o altre cose simili allora i motivi sono tanti ragazzi può essere la connessione la vostra connessione può essere delle mod che avete dentro o texture pack per cui vi consiglio di se volete entrare nel server di togliere 2minitems, togliere mod togliere texture pack perché a volte è anche solo per 2minitems se non vi fa entrare nel server o se no, se non vi fa entrare comunque allora andate su pannello di controllo e disattivate i firewall in tutti e due i campi spero abbiate capito perché a volte avendo i firewall attivati non vi fa entrare nei server oppure, ragazzi, altro motivo avete degli antivirus scarsi che non vi fanno entrare nei server o almeno nel mio server perché lo rilevano come virus soprattutto a VG chi ha VG è difficilissimo che riesca a rientrare per cui, ripeto, ragazzi può essere l'antivirus possono essere i firewall o può essere come avete impostato il vostro Minecraft per cui ve lo ridico togliete too many items togliete texture pack e cose simili provate e fatemi sapere se così riuscite ad entrare perché ieri un po' di gente siete riuscite ad entrare seguendo questi consigli poi un'altra cosa che volevo dirvi ah, sì andiamo a dare uno sguardo sul server dovrei essere da solo no, è entrato appena adesso uno infatti io stamattina ho aperto il server un pochino prima allora se vi ricordate avevamo fatto una specie di città e come come vedete io non sono in creative va bene lo farò vedere lo stesso ma come sono morto ok, rieccomi ragazzi scusate ehm quanti siamo in due desvini 99 ok, dicevo questo è il respawn il mio respawn perché ho messo delle pulghine in più ok, vi volevo far vedere le costruzioni che hanno fatto più o meno se vi ricordate la città era vuota invece adesso si è riempita di costruzioni per cui vedo che si danno da fare e soprattutto si stanno divertendo e quello è l'importante per cui ragazzi vi aspetto i numerosi seguite questi consigli e vediamo se almeno così riuscite ad entrare per cui direi che da Luke è tutto ciao a tutti è è Grazie a tutti.